musica 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 ho ucciso Rick si ma infatti ho colpito il petto procediamo però nelle loro robbie vedo molto di meno rispetto a quando gioco io per i fatti miei musica 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 yes venivo da venivo da storia di miei raggi comunque martini posso dire una cosa dimmi dopo di fatto la benzina perché non sapevo subito a fare la missione per engine di benissimo che vuol dire dopo che hai fatto la benzina per continuarla dovreste andare per engine puoi riprenderlo ma mica del mica ci sta l'ordine che devo fare le missioni come teoria non è nessuna teoria io per un tratto di vostro mi ha inseguito però poco poi sono andato quindi dove sei nato ax e verso il basso verso il basso verso scelta impossibile c'ero io io venivo da storia non ho incontrato nessuno si è passata davanti a communication e tu e tu doveri ma poi sono continuato ad andare in storia gfino schippiamo allora pino mi ha incolpato subito dicendomi della cosa della benzina e secondo me una grande perché posso decidere la rotazione che voglio io punto numero 1 punto numero 2 penso che penso che sia da xilu sama perché axilu sama veniva se veniva da shield avventato da navigazione fino a shield è già questa cosa è sbagliata quindi axilu sama non voglio averlo vicino e non voglio avere vicino neanche pino chi ti d'ha una giovita chi non è in realtà chi non c'è chi non è un progetto chi non ha un progetto chi non ha un progetto chi non ha un progetto chi non è ciudadano chi non è tutto chi non ha un progetto D'onde? Allora, in alto Come si chiama? Electricity Ho visto Sompino e l'impostore 1000% 1400 E ha usato la botola Ok E quindi c'era qualcuno Ok, partiamo dal presupposto ragazzi C'è stata kill di Axe e di Sompino Questa è una double kill Quindi posso dire, io devastator no Perché eravamo entrambi in O2 e navigation Quindi hateful Io puzzo dove stavi? Medical, medical, medical Da medical Si può uscire da i crisi Ok Io ho finito lo scan Stavo andando verso il reattore Che c'è un'altra tasca Hateful query in security Deva 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 Double vent 100% Allora, io e Crodomy stavamo in due Se Ricky e io puzzo stavano in medica Ma no, no Ma che come Perché dici che è un voto a c***o? Scusami Noi andiamo per esclusione, giusto? Se il devastator siamo stati tutto il tempo A O2 e navigation a destra E c'è stata una double kill Tu hai trovato la kill in electricity Ed hateful in security E due E due erano in medbay Aspetta, aspetta Su questo Io sono sicuro che è hateful Comunque L'unica cosa è checobomba O io puzzo Sai perché? Perché Ricky stava andando Alla In med E io puzzo era dentro Ah Hateful adora Perché io scusate? Perché checobomba Checobomba potrebbe non averlo puzzo Dato che era le telecamere Eh però Però siccome Però siccome erano entrambi in security Deva È strano, capito? Boh Non avete prova Senza senso Andiamo ragazzi Hanno vinto Ah no Eh Vedi Ed E allora l'altra checobomba Erano entrambi in security O il checobomba O è l'altro tizio che non mi ricordo come c***o si chiama I don't f***ing remember Ah tutto ok Non mi piace checobb Per niente proprio Non mi piace né questo né checobb Sono in due che non mi piacciono Ha chiuso le porte È morto Io puzzo Sicuro Ecco qua Ok Eh beh Io posso Direi che è evidente Posso dire quel che vuoi Ma io ero con Con Ricky e non l'ho ucciso Ero da solo Puzzo Puzzo Ma infatti Ma infatti non ti sto dicendo niente E checobomba era in admin Eh scusami Checobomba era in security E eri Era in security Nelle telecamere Le telecamere non attive Sono uscito da caffetteria Mi sono trovata bloccata E c'è stata la morta E le camere erano attive Ed eri in security Perché ti ho visto che eri all'angolo Erano attive infatti Eh Erano attive Appena hai visto che sono uscita fuori da Matt Bay Da caffetteria Si sono chiuse le porte E c'è stata la kill La kill La kill era dentro security Puzzo La kill era dentro security La kill Io ho visto tutto che stava dentro Matt Bay Raga eh Ma fate voi Ma io No Allora Mi chiuso più di una volta Da solo con Ricky E non l'ho ucciso Per me Martina Sta a fare il doppio gioco Io se esco Ma una pinna Puzzo Puzzo ascolta Io mi fido di te Di quello che dici tu Che eri con Ricky A me checomi Puzzo da prima Per il semplice fatto che Da dove ha trovato prima il corpo E il fatto che ora Lui era in security E eri nelle telecamere Perché stavi guardando Ricky Che faceva quello dei cubi E ti rimessi in mezzo a non fare niente Stavo in un attimino Adesso sto ritornando dall'electrical Stavo in un attimo No Eri in security a vedere le telecamere Ma non è vero Eri in security Non è vero Ok Vota 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 che co-bomba Vota che co-bomba Palese Palese Ma Martina È devastante Mamma mia Brava Palese No palese Aiuto palese Perché il co-bomba Vedi Ha trovato il corpo In ethical E lui ha detto che stava in security Come fare No no Ma infatti Ma infatti Ma infatti Ma infatti Io Prima Quando abbiamo kickato l'altro Io volevo fare l'emergency call E dire subito di kickare Checco Subito Ma io non sono entrato Eh Nemmeno io Aspetta 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 Non è uscita Se siamo 10 Facciamo Facciamo dopo questa A meno siamo già dentro Checco inutile Ok E dopo vediamo E dopo vediamo Dai intanto Andiamo così Ma manca qualcuno Nel discord Che non parla Chi è che non parla Non lo so Beh intanto No 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 Easy Aspetta tranquillo Tranquillo Intanto Mutiamoci Mutiamoci Non potevo uscire Ragazzi Le 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 Cal Mi ha visto ragazzi Devo ammazzarlo Devo bloccare lower Upper E devo ammazzare Questo qua Che è successo? Dov'è morto? Allora, raga, ho trovato a sinistra della sala dove si fa l'attacco La medicina? Sì, sì, sì Ok Non ho visto nessuno riuscire Allora, io gli dico solo una cosa, cioè non è stupida, però è da capire Appena l'impostore è ucciso, è morto e morto lì dove hai detto tu L'impostore ha chiuso le porte per non far vedere a me, probabilmente quindi io Sì, noi eravamo Raga, raga, io sono entrato a fare la task, ho visto che la Vi dico solo, se il mio ragionamento fila, nel mio, eh, non devo dire che votate Gravani Perché non l'ho visto ammazzarla Ma scusa, ma eravamo in stanze, ma vedi che eravamo in stanze insieme e c'era il tizio in admin Mi hanno detto che in realtà a sinistra c'era il morto No, no, non ha detto, non ha detto in upper Ma non ha detto in upper, ha detto dove si fa la medicina No, in med video Eh, ha detto in medicina, che cazzo c'entro io? Sì, sì Che cazzo, eravamo io, te e c'era un tizio che era, che stava guardando le telecamere Ah, ok, ok E quello che guardava le telecamere mi avrebbe visto, eh Eh, lo storaggio Vai, vabbè Boh, schifo Schifo A me finiamola, no? Quello della telecamere non mi ha visto, meno male perché ha levato la luce dell'amico mio Meno male, che c***o Ok, chiacca bomba, lo devo fare fuori C***o Nella sala delle telecamere l'ho visto Stavo entrando contro le telecamere L'ho visto che era morto E l'ho riportato E' morto pure che con bomba è morto questa Io ho visto Corvo a morire Chi era con te? Varsavia No io ero solo Ho visto contro le telecamere Ho visto lui e ho riportato subito Aspetta tu eri alle telecamere? Si ci stavo andando e l'ho visto Aspetta ma tu hai visto proprio dalle telecamere? No non ho visto le telecamere Stavo entrando Sai perché te l'ho chiesto? Perché siccome stavo in navigazione E poi stavo andando verso Shield Ho visto che avevano attivato le telecamere Infatti ho detto ok mi ha visto che scendevo Però pensavo fossi tu invece no Allora era quello che hanno ucciso Io non ho controllato le telecamere L'ho visto davanti Comunque io ero in navigazione Stavo andando verso Scudi Si raga però dobbiamo decidere Perché già hanno ucciso Voi sapete chi è ragazzi? Io no perché ero completamente da solo in navigazione No Io ero in electrical Però sono uscito da electrical Mi si è chiusa la parte Ragazzi secondo me devo stare tutti insieme Così non fanno più chiedere E finiamo le task Il problema è che se buttiamo uno fuori Failando È finita È finita sì Io Devastator l'unica volta che l'ho visto Nel round di prima Ha fatto una task E basta Ma io ti parlo non adesso Ti parlo del round di prima Ho visto Devac che ha fatto la task Quindi sono sicura L'unica persona che mi rende un po' dubbiosa E il fatto che Che Varsa era da solo Nelle telecamere E ha trovato lui il corpo E non c'era nessuno con lui Capito? Fa strano questa cosa A me invece tra tutti È Varsa Di te non lo so Perché non ti ho mai visto Ma proviamo Devastator Ma io l'ho visto per la task Io Devastator Ho visto per la task Allora Se Devastator è intelligente Leviamo la luce E ne ammazziamo due Fina Easy win Easy win Ragazzi Ragazzi Ho visto Devastator Che mi seguiva troppo L'avevo capito Easy win È il verde Il verde lime Vincolo ragazzi La voca Pini Voi non mi credete mai Credete sempre a Martina Così fa La buca Ti dare un po' E Martina Allora Però questo che era Devastator No dobbiamo fare Sto game per forza Non posso buttarlo Guarda Ma era assurdo Devac Cristo Oddio No dobbiamo fare